Quando hanno fermato l'auto per un controllo, i carabinieri si sono subito accorti che qualcosa non andava. Ad insospettirli infatti il forte odore di mariguana che proveniva dall'abitacolo della macchina ed il fatto che il giovane al volante fosse chiaramente molto agitato e in uno stato alterato. Per un 25enne è così scattata una denuncia. È successo a Vucine dove i militari qualche sera fa in perlustrazione sul territorio hanno deciso di sottoporre ad ulteriori accertamenti il ragazzo residente a San Pancrazio, una frazione del comune. Il giovane è stato così accompagnato all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi dove gli esami di laboratorio hanno evidenziato la presenza di cannabinoidi nel suo organismo. Il giovane aveva effettivamente assunto sostanze stupefacenti come militari avevano ipotizzato ed è stato quindi denunciato dai carabinieri in stato di libertà e segnalato alla prefettura di Arezzo per i provvedimenti amministrativi del caso.